Ah, vissi! Che macchina vieni? La pagina! E dove siete? Firenze Hai girato pure questa macchina? No, ce la sto io ora Ah Così? Con il ragazzo di Gioia Sauro Ah, Giuseppe? Eh, non lo so, me l'ha detto il nome Il numero 4? Si, lo è Tu la tensione La tensione Allora, la tensione si usa solo per cambiare macchina Ok Vai, vai Vai, vai 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 Oh, la tensione! No, no È importante che non ci sia Due Vai Vai Inizia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.